Ciao ragazzi, pronti? Temiste? Va bene, apri le danze A prendere le danze Temiste? Benvenuti Che dire che fai? Che spia Chico, non stai scherzando Che bello 5 fermi Che bello 5 fermi Non lo tocca a me Tiro giù tutto ragazzi Ti aggiunto il delizio Ma tu come che tiri? Attenzione Come che tiri così? 9 Eh? 9 Tu com'è ragazzi? No, è un altro modo Solo che mi trovo meglio a lanciare la persona Non è un altro modo Vale, è male Vedi la mia squadra Inverestigia Sì 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 No Sì 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 No! L'urbo, l'urbo è ricino a Cervonti! Non è stato giusto! C'è un'immigilità! C'è un'immigilità! Ma hai regalato emozioni! Assettino che hai regalato emozioni! No! È finito! Ma no, vada! È giusto! 17, 13, 14! Unità che va via questo concorso qua! Non si fanno in barriere anche lì! Ma dove l'hai lanciata? Ma dove l'hai lanciata ragazzi? A San Fedele! San Fedele! San Fedele! San Caffè? No, l'hai lancio a San Fedele! No, per favore! No, non è che l'hai lanciata! L'ho trovato a Casolo! Per favore! A Casolo! A Casolo! A Casolo! A Casolo! Vedi! 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 Il maestro! Stratto! Ma vai lo vedo! La distratto! Ma veramente! Questa è il tiroio! E' un'istretto a tolta! Ah 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 ah! Io chiedo l'aiuto! Venti qua! E' un giocato! Nice! Ragazzi! Se perdo questa, la prossima la perdi! No! Si consiglio per essere te, perdi questa, 1-0 con il numero tosto, Aia no! Oh no! Guarda, ti sbaglio! Ma lo stasporto non l'hai visto! Ma il sbaglio è un bel zero! Tu almeno! Che no! Ma chi è? No! Quella no! Guarda che te l'ha tirata addosso! Mannaggia! Quella porchetta, guarda! Si, non vendiamo le squadre! Guarda! Ora l'avento in zero e guarda! Bravo! Vado a rivederlo in zero! Bravo! Bravo! Adesso si vede anche un papà! Oggi, questo è il quale è quello strano! Che paura! E' il quale fa torno ci manca! E' il quale è vero! E' il quale è vero! E' il quale è vero! Aia, aia, aia! Ma lei la sta sempre di là! Ma lei va sempre di là! Ma sei di là! Sempre di là! Aia! Vinta lo spiro! Attenzione! Cioè, in verità, vota un colpio per qualche cosa! Ma... Ma... Oh cazzo! Oh cazzo! E' corretto! E' il quale è che mi ha venduto tutti un nome di bene! Ma si si! Ce n'è sempre uno con le mani di cucchiere io e ti è una cazzo! Ma basta! E' perché ci sono le corde! Ma le corde è tutto bene! Si! Che si sulle benissimo! Oh! Ma viene troppo bene! Ma le tante! 15, 23 volte! Non si vuole da dire! Stai arrivando! E' Dennis! Cazzo! Un pochissimo! 장? Ma era... eh! товera... Eh però qui... se lo riproddevi bene... E' un bel bubblegum! E' sapere? Hai fare 23, 23! Ai, dai, dai! Kakia! Aia! Scegli la cadda pesante! eh! Una quitta! Io ne voglio stesso registro per curaами! Secondo… Ma nooo, te l'hai matato! Ma va qua qua qua! Ma nooo, te vallate con scherzo! Ma va qua qua! Grazie! Grazie, grazie, grazie! No, il ministero, ma cos'è? E questo è proprio un fail Ma è fail ragazzi Ma che fail? No, no E' preso un po' E' caduto E' un po' di brutto E' un po' di rischia 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 Arca segreta Allora, allora Oh, cazzo, cazzo È sempre uno Ma cazzo, ma è truccata No, è sempre uno No No Disastro Ora appunto Spero, guarda No 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 Ecco, infatti E' il fail E' il fail Questo è il fail Questo è il fail Questo è il fail E' il fail E' il fail Saprei sanzarlo un pochino magari E' un po' di bullying Lo lascio Aia E' ancora prima di finirlo L'ho fatto un po' L'ho fatto un po' L'ho fatto un po' Sì, ma così non vai No No Ti ho visto Ti ho visto? Ma ti ho visto? Ti ho visto? Quanto Quanto Non lo so cosa hai messo con le ditte Ah, sì No Vabbè Mi sono spiegato Sì, temiste ragazzi che in realtà è temir Si è avuto squalificato Docking C'è uno supero, temiste C'è qualcuno che vuole far ricercare il campo Mi sai Ma raga, sempre uno rimane Guarda, sempre uno Guarda, noi si fai un periodo Vi trollate oggi Sì No, guarda Tutti devi prendere Cazzo è vero 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 Cazzo magari mi piace più Oh, affancio Arrabbiatrice Arrabbiatrice Mannaggia La borca di quella paretta paretta toccaniglia Asciugo le mani col vento Ma non c'è Asciugare il vento E l'hai fatto per quello Raga Raga Voi, non so se Se il mio tiro Se il mio tiro le verificerà Sì Quarentotto tracos è un po' di venti quando? Vai dai Oh, oh, oh Oh, oh Cazzo è vero Dany Vai vire Tino C'è una sfida dell'uno Vai vire Tino C'è una sfida dell'uno Vai vire Tino Oddio così guarda Raga Dennis la striga dell'1 C'è chi no? Aia buonasera Cosa facciamo Loris? 10 10 Beh prima 10 era carico Loris Ma non mi parla Qua non ti prendo Dennis Cos'è? Si è caduto sul piede Ci da la carica Io ne provo una leggera Provo? La 6 La 9 E' buona C'è No questo è buono Questa è vera Questa cazzo Sembra una buona Guarda questa adesso De mister Fatta questa Ragazzi Raga Raga la 15 La 11 Ma mi faccio? I prossimi ti ripasserò Oh 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 Ma hai rotto Tutto Ma hai rotto Tutto Perché Lars ma sei rotto Sono rotto stasera Sono rotto Stasera Ma hai rotto Ma veramente Ma no Ma no Perché si lamenta perché non è giusto fare tutti, tu sei a 33 Oh, bello stile qua, raggiù Cazzo, ma... Vai, vai Sì Cioè, quello che è il perno Ha fatto la feina e mi riprendo più Oh, grande Norris Eccolo Spare 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 Eh, invece Danny scusa a tutti Eh, lo strike a Danny Oh Eh, no Oh, cazzo Molte che la metterai ci Sì Ma dove vai Danny? Quello? Cioè, non c'è la gialla Quello era a 13 Eh, non devi andare dritto per dritto Cioè, adesso li ha dato a 13 A tre Ma te parla i capi Oh, oh, oh Oh, oh, spero Non c'è, ma... Eh, questo è il perno Non c'è, ma avete fatto i peggio tiri Guarda, 50 qua rischerà Voglio più vicino a me Non c'è, ma anche non c'è Eccolo, ma... Ma che droga Ma te lo stai lì Quanto un gioco, ma... No, 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 no Siamo squadra assieme, tanto E dopo la media che conta Oh, 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 oh Ma dai, ma tu hai finito Illegante! Come si deve sbattere sul terreno? E come si deve sbattere sul terreno? Eh, ho capito ma... Eh, ma traballava? Tu dici che non devi rimbalzare? Come ti rimbalzare? Ma allora che mi ha spesso? Io chiedo... Chiedo soccorsa e... Mi vado ai non porti... Sperda! Sperda da piatta! E' la pirata! Sperda da piatta! Sperda da piatta! Risperiamo con questa ragazzi! Io la prossima! Nooo! Era il suo tiro doppio! Nooo! Era il suo tiro doppio! Nooo! Era il suo tiro doppio! Nooo! Nooo! Questa era zero! Nooo! Nooo! Zero! 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 Nooo! Nooo! Ma lei però era 12! Era 7 appart! Nooo! No dai! Possibile! Nooo! 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 Ohoo! Questa c***o è tutta la porta! Eh, tutte le viste del pirone! Eh, certo! Ma si fermi, raga! E non si fermi! No, era 15 che era questo! Troppo pesante! Ma scherziamo! Aiutiamo! Ce n'era uno dietro! Uno dietro! Chi ha letto? Eh! Dai! Ma vorremmo sto strike o no, ragazzi? Ma vorremmo sto strike o no? Ma vorremmo sto strike o no? No, Loris! No, Loris! No, Loris! No, la fine! Ma non ci credo! Loris, Loris! Eh, 4-0 per favore! No, Loris! Zero, eh! No, Loris! Che maraviglia stella! Bravo! No, è buono! No, no! Eh, forse è buono! No! E tu! Il snillo! Non è cariciato, ragazzi! Cazzo, Loris! Lo senti! Ma che come via? No! 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 Sì! Anderò un po' lontano, però... Magari! Minchia, faccio il tiro! Safe! Forse! No, ce n'erò! Ora che mi esca... No, questo è un fail, Loris! È un fail! È un fail! È un fail! Guarda di Spero Strike, ha due punti! Cazzo, no! No! Ma no! 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 Cosa c'è? La cosa stessa è... Ma è la fai fare 0 a noi! Eh? Te l'hai peccato lo 0! To a te è lo 0, guarda! Come? No, come c'è te lo 0? Te l'hai peccato la 0, guarda! Guarda il buco, il buco, guarda! O nero! O nero! Ho sparito, ho sparito Un disastro Un disastro Un disastro Un disastro Stai Dai Comunque mi chiede una cosa che non tira Ma non ho fatto più a caso stare E anche qui C'è il mio 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 Io sono un mio Ma non parlo Anzi sono tutto il mio E la donna è il mio mio No, ma teniste No, ma teniste Mi chiedi, non cacciato Che cosa era? Che cosa era? No, mi sono venuto a casa sua Ma che Ah Lloris, doppio teo Lloris, strike Lloris, strike Lloris Nooo Lloris Schifosa Non ci credo Non ci credo C'è lo zero Buffone Due te Ma perché aveva un zero Prima? No, lloris Eh, ma no Era un buffone Abbiamola perfetta Forse C'è qualcuno che fa scuola Forse non gioco solo Non lo so Non lo so Che dire Chiamano davvero Gli infortuni Invergenza E per fin Non lo so Non lo so Quada 6 51 Tonicamente Maiaiaia Ah Ah Ha girato Ha girato Ha girato Mentre andava Giù, mi fai mai Non sta 10 di me Devi sopportare ancora la partita Delle Vedremo per il totale Questa cosa succederà Ma giù spero Allora L'ha detto lì Ah, aia F*** F*** 5 2 Slycer Slycer guarda guardalo non è abbastanza potente quella panda lì che viste la riprende ancora più rossa più pesante più pesante non so neanche il sito ma lei si è tricherato ma lei si è tricherato adesso in questo video ma anche il video nooo ecco ma non c'è mai lo spesso ma anche il video di questo calcola la media adesso arriva l'oiso 98 l'oiso 98 è un strano grazie 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 bravo oh ma cosa è successo ma cosa è successo cos'era? si è spostato un millo caso ma non c'è un taggio strike o sveglio così posso ritirare ma forse l'oiso ma lo perde oaah che c'è un taggio strike o sveglio oh 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 eh comunque camiseria calcolà calcolà la media la media è alta 83 e fare almeno 30 punti ne fa almeno 30 punti il silenzio del maestro no non ci credo no 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 abbiamo vinto andiamo a bloccare il punteggio lì va bene vai ciao no 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 no